Non è passato inosservato questa mattina Piazza della Libertà, il sopralluogo dei tecnici della Anni 60 Produzioni. L'agenzia che organizza gli eventi musicali all'interno del Palasele si occuperà di reperire il cantante che si esibirà per il Capodanno in Piazza Salerno. I tecnici dell'impresa hanno perlustrato i portici e diversi punti di accesso della piazza per verificare vie di fuga e mettere a punto un piano che, con quello che sarà redatto dalla KLS, l'agenzia che si occupa di garantire la sicurezza durante l'evento di Lucida Artista, verrà certamente incaricata anche di controllare l'ordine pubblico durante il concerto di Capodanno. I due piani dovranno passare al vaglio della Questura di Salerno e della Prefettura per avere l'ok definitivo al momento, tranne le indiscrezioni giornalistiche trapelate da un'intervista al Governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ufficialmente al Palazzo di Governo di Piazza Mendola non è arrivata nessuna comunicazione ufficiale sul Capodanno in Piazza della Libertà. Stamattina invece al Comune di Salerno si è svolta già una riunione operativa e domani ce ne sarà un'altra. Questione centrale resta il reperimento dei fondi necessari. Organizzare il Capodanno in Piazza della Libertà significa, da un punto di vista economico, spendere di più, soprattutto per garantire la sicurezza. Servono infatti almeno 100 uomini della sorveglianza per poter essere sicuri e superare anche le diffidenze che il Questore di Salerno, Giancarlo Conticchio, aveva più volte espresso in passate iniziative nelle quali si era proposto l'utilizzo della piazza. Per quanto riguarda invece il possibile cantante ancora non c'è nessuna certezza, ma tra i nomi più accreditati quello della cantante Anna Lisa, in grado di accontentare fasce di pubblico etereogenee dai più giovani alle famiglie.